Ho convocato tutte le categorie economiche del Veneto e sono emerse delle condivisioni. Allora, intanto, come diceva chi mi ha preceduto, effettivamente è assolutamente trasversale perché il turismo è quello tangibile, perché va da sé che se c'erano dieci prenotazioni in un albergo e oggi ce ne sono tre perché qualcuno le ha tolte, questo è misurabile. Ma c'è tutta un'economia che oggi non è misurabile ma che in realtà sta soffrendo tantissimo. Le richieste che arrivano dalle categorie economiche al governo sono sostanzialmente queste. La prima, che non si immagini di fare provvedimenti dedicati alle zone rosse perché non ha nessun senso dal punto di vista economico. L'intervento nella zona rossa va bene perché lì c'è un'emergenza sociosanitaria, ma il contagio economico finanziario in realtà riguarda un'area vasta, in particolare tutto il nord. E quindi devono essere presi provvedimenti importanti su tutta l'area interessata. La seconda cosa che serve è drenare della liquidità pesante nel sistema produttivo per consentire una volta passata l'emergenza sanitaria che le nostre aziende si rimettano in piedi. E poi le moratorie che sono previste vengono considerate come una precondizione necessaria ma sicuramente non sufficiente. Qui stiamo patendo davvero tanto. Tenete conto di una cosa che aiutare il Veneto, la Lombardia e l'Emilia Romagna oggi non significa aiutare queste tre regioni, ma significa aiutare l'intero paese perché queste tre regioni fanno metà del PIL dell'intero paese. Una decrescita di queste regioni significa andare in decrescita di PIL per l'intero paese e entrare quindi in recessione. Per cui bisogna assolutamente mettere in sicurezza queste tre economie per mettere in sicurezza l'Italia intera.